Ringrazio Andrea Reci per averci raccontato questa esperienza che purtroppo non ha avuto specularmente una parte generale introduttiva. Sui risultati del workshop, ieri Andrea ha presentato l'esperienza di Milano, di Bella quella di Torino e si denocenti quella di Pisa. A che conclusioni siamo arrivati? Ma riguardo alle city food policy, che sono questi percorsi nuovi, dobbiamo trovare il modo di farli assurgere a sistema anche in un quadro nazionale. Ci è sembrato che forse il percorso più praticabile, poi va bene, questa è una unità altra parte, poi quando avremo modo di parlarci direttamente lo capiremo meglio, sia visto che esiste una associazione che si chiama ANCI, l'associazione nazionale dei comuni italiani, di vedere se all'interno di ANCI ci può essere, e intanto queste politiche andranno avanti, andranno avanti per una portata e spostata in gran parte del mondo. Noi ci interroghiamo a Milano o a Torino per immaginare quale può essere la situazione in Cina con agglomerati di tutta altra dimensione di tutta altra dimensione. Allora, semplicemente la proposta è di vedere se l'ANCI è disponibile a condividere con noi questo percorso, che sollecitiamo, che potrebbe prendere le forme più diverse. L'ANCI ci sembra la giusta istituzione che può raccogliere anche le altre esperienze, ce ne saranno tante altre sul territorio, monitorarle, portare a fattore comune e le buone pratiche e può interloquire con gli altri livelli di governance di questo paese, principalmente con le regioni che hanno le funzioni di indirizzo, per andare poi a calibrare, perché poi non sono solo city food policy, ma le città sono delle entità che si devono relazionare col territorio. Quindi sulle city food policy la proposta molto semplice che poi svilupperemo è di verificare anche la disponibilità del LANCI a creare anche una commissione che si occupi specificatamente di questo e di fare un'attività di raccordo con gli altri livelli di governo. Passo subito alla parola a Tina Napoli che racconta l'altro pezzo del workshop che era dedicato all'etichettatura, ma perché? Perché noi rischiamo di sviluppare delle grandi ambizioni politiche territoriali e poi abbiamo ancora delle strettoie normative o di altro tipo che rischiano poi di smontare a valle tutti i buoni propositi. Faccio un piccolo esempio, noi possiamo creare i migliori city food policy, se poi però andiamo a schiantarci su quelle che è un cono di bottiglia, quale la normativa Consip come piattaforma d'acquisto pubblica e quindi poi devo acquistare, se ho pensato un assessoratore all'istruzione che appunto fa ristorazione collettiva e deve poi davvero acquistare, acquistare del rata alimentare e quant'altro, se poi devo scendere tra un panel di aziende che sono sempre le stesse e rischio con un meccanismo che cade le sue ragioni ma che non è congruente con questo tipo di impostazione. Quindi si tratta di ricalibrare i livelli regolamentari per far sì che anche con i migliori propositi non si vada a smontare dei percorsi importantissimi. Io ringrazio veramente i partecipanti al workshop numero 3, complessivamente abbiamo avuto più di 40 interventi in tre ore, quindi ringrazio anche proprio per l'educazione e per la comprensione che dovevamo stare dei tempi, delle regole, tutti hanno fatto dei sacrifici. Sono emersi, non ve le posso raccontare, una serie di ricchezze bellissime che hanno toccato i temi della logistica, i temi dei public procurement, sull'acquisto e così. Però mi fermo qui perché se no commetto un errore di mezzo e passo subito la parola a Tina Napoli che mette a punto invece l'altro pezzo sull'etichettatura e sull'attito posta. Grazie.